E sempre a proposito del gubbio ufficiale, il rinvio della gara con il Cesena a causa del numero dei positivi al Covid nel club romagnolo. Adesso invece parliamo di paravolo femminile, torna alla vittoria la Bartoccini-Fortinfissi-Perugia che a Chieri batte le padrone di casa al tie-break. Vediamo. La Bartoccini-Fortinfissi-Perugia comincia la prima delle tre trasferte aggiungendo alla propria classifica due punti dopo aver vinto al tie-break contro la reale mutua Fenerachieri nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Nel primo set le padrone di casa si portano avanti di sei lunghezze sulle avversarie. La svolta per Perugia arriva con il turno al servizio della Velcova che mette grande pressione alle avversarie. Le ospiti impattano a quota 19 e vincono il parziale 23 a 25. Nuovo a lungo a inizio secondo set per Chieri. La Bartoccini trova anche in questo caso la reazione, non sufficiente però a riacciuffare le piemontesi che pareggiano il conto dei set. Nella terza partita sono le Perugine ad iniziare con la testa avanti. Il vantaggio si spegne però quando Chieri impatta a quota 19, ma Zanti chiede time out. L'inerzia continua, si va sul finale di set punto a punto, ai vantaggi si impone la reale mutua. Reagiscono le ospiti nel quarto parziale. Questa volta ancora con la complicità della pressione al servizio di a Velcova, le padrone di casa restano dietro e Perugia vince 23 a 25. Nel set decisivo dall'1 a 3 per la Bartoccini al 5 a 4 per Chieri si passa al nuovo vantaggio della squadra di Mazzanti che dall'8 a 11 controlla fino alla fine vincendo il tiebreak e mettendo in graduatoria due punti importanti.